Adesso penso che mi hanno detto che abbiamo anche 5 minuti di una situazione di emergenza. Andiamo a vedere una situazione di emergenza. E' qui il pronto soccorso? Sì, sono nel posto giusto. E' in sala l'accompagnatore del signore che ha subito l'incidente in codice rosso che dobbiamo operare? Sì, sono io. Sono il cognato. Allora, mi dica, come sta? C'è qualche novità? La prego. Venga qui e si sieda. Calma. Frizione. Frizione. Guanti. Guanti. Grebiule. Grebiule. L'anestesia? Siamo pronti? Cuffie. Cuffie. Mascherina? Mascherina. Gliore. Bisore. Come avrà capito, stiamo per operare il suo cognato. Avrei qualche domanda da porle se per lei va bene. Ma come, è già sotto anestesia? Mi ascolti bene. Mi ascolti. Che lei sappia, il suo cognato è affetto da particolari patologie, malattie ereditarie, e è sottoposto a qualche terapia? Certo. È malato di cuore. Ah, capisco. E sa dirmi esattamente di cosa soffre? Se non ricordo male, soffre di fibrillazione atriale ed è in cura da circa un anno. Questo è importante. Eh, che tipo di farmaco sta assumendo? Per caso degli anticoagulanti? Sì, degli anticoagulanti, proprio quelli. Questo è fondamentale. Sa dirmi che farmaco sta prendendo? No, 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 non ricordo, ma ho recuperato velocemente questa confezione di farmaci da casa sua. Prima di venire qui, ho pensato che potesse essere utile. Provi a vedere lei se può essere uno di questi. Sì, ecco, l'ho visto, sì. C'è. Molto bene, molto bene. Questa è una buona notizia. Qui c'è l'anticoagulante che prende suo cognato. E mi dica, mi dica, lei sa se l'ha preso per caso anche questa mattina? Credo, credo proprio di sì. So che lui è molto scrupoloso. Infermiere? Sì? Ha verificato la terapia che sta assumendo il paziente? Sì, è un RZ744. Perfetto, molto bene. Allora procediamo con la somministrazione dell'antidoto. In questo modo spegneremo rapidamente l'effetto anticoagulante e potremo operare in massima sicurezza. Mi raggiunga in sala operatoria. Stia tranquillo. E stia qui, eh? Stia qui. E aspetti. Grazie. Che prego, prego, prego. Sono preoccupato, sono preoccupato. Chissà quando... Quando... Ma quanto tempo ci vuole? Il prossimo... Speriamo bene. Non vorrei... Chissà come sarà poi dopo. Certo che è stata proprio una brutta botta, eh? Ma gliel'avevo detto io di non andare a fare la spesa con quell'acqua. In bicicletta, poi. Poi di suo. Lui non è che stia proprio bene, eh? Il mio cognato è così. E vabbè. Aspettiamo. E vediamo. Buongiorno. Sono il chirurgo che ha appena operato il suo cognato. Buongiorno. So che era molto preoccupato. E sono qui apposta per lei. Ma, medica, com'è andata? Dunque, l'intervento è andato molto bene. Ha avuto un buon esito. Sì, sì. È tutto sotto controllo. Tutto è andato per il meglio. Siamo stati fortunati. Anzi, suo cognato è stato fortunato. Perché la terapia anticoagulante che sta assumendo ha a disposizione un antidoto. E questo ci ha permesso di intervenire rapidamente, riducendo le complicanze. Oh, che sollievo, dottore. Questa è proprio una buona notizia. Quando succedono gli incidenti c'è sempre poco tempo per agire. E se è troppo tardi la preoccupazione aumenta. E sapere che avete potuto agire rapidamente e in sicurezza già mi rincuora. Ma, dottore, mi dica, il mio cognato recupererà a pieno? Sa, lui ama tanto andare in bicicletta e di sicuro non vorrà lasciare le due ruote. Penso che questo incidente non lo fermerà. Guardi, la sua domanda è lecita. Sì, è vero l'intervento è andato bene, il suo cognato è forte, ma gli lascia almeno il tempo di riprendersi. Eh, dottore, ma ora dovrà cambiare la terapia anticoagulante che seguiva? Ma assolutamente no. Alla dimissione potrà continuare tranquillamente ad assumere il suo farmaco così come era abituato. Ah, bene, dottore. Sì. Ma quando è che posso vederlo? Ah beh, ma anche subito. Venga che l'accompagno. Grazie.